Grazie 60 anni, sicuramente non ne do, sono 60 anni, è un straordinario percorso Sì, consiglio Presidente che noi siamo secondi al mondo con la longevità, dopo il Rolls-Royce, stiamo aspettando che smetta E dopo questo, questo è il nostro ultimo CD dove c'è due poesie che ci ha dato Francesco Guccini e sono recitate dalle Neri Marco Resco Una canzone che ci ha dato il nostro conterraneo Luciano Rigabue, in più un testo di Giorgio Affaletti che mi viene nel 2010 e che abbiamo musicato adesso Grazie, questo è un sottotitore presto che nasconde Magnifico, grazie E questo libro, io ho dettato, non voglio prendere i meriti, dove c'è un po' di racconti da quando sono nati i nomi di fine giornata E' cominciato con un agosto d'olio L'olio, perfetto, nel 1963, siamo partiti Augusto e dal 2015, adesso c'è altri amicissimi Con cui stiamo andando, continuiamo, continuiamo il nostro pallino Grazie Prego